ciao a tutti bentornati su mio gioco il tubo vi facciamo un nuovo video tutorial su come fare una richiesta di visto per l'australia questa volta ci occupiamo di quello turistico le visitor perché l'abbiamo fatto noi perché col visto working holiday che dura un anno non siamo riusciti a finire il giro dell'australia quindi abbiamo fatto il turistico per riuscire a finire il giro problema problema siamo dovuti uscire dall'australia per farlo esatto perché non puoi fare questo visto se hai già un altro visto in corso e quindi sei obbligato a quando ti scade il visto working holiday o qualsiasi visto sia in tuo corso uscire dal paese e richiedere il visto turistico e la cosa vantaggiosa però che le visitor è gratuito quindi insomma magari ti paghi un volo per bali come abbiamo fatto noi che costa relativamente poco da aperto da darwin e ti vedi l'isola sono stati a bali qualche giorno poi siamo tornati video in descrizione video in descrizione quindi appunto le visitor è gratuito il discorso è che dura tre mesi cioè dura un anno però voi potete restare in australia solo per tre mesi consecutivi poi dovete per forza uscire se volete poi potete rientrare senza doverlo richiedere perché è ancora in corso per 12 mesi la differenza tra le visitor e il visitor normale è che è il prezzo ovvero le visitor è gratuito il visitor normale costa potete pagare tre mesi sei mesi o un anno potete scegliere voi la durata e se fate questo potete stare appunto fino a un anno però nel paese tutto l'anno senza dover uscire poi rientrare e questo è il vantaggio di questo visto però comunque con nessuno di questi due visti si può lavorare perché sono visti turistici non visti lavorativi quindi noi vi consigliamo ovviamente di fare quello gratuito ai visitor visitare l'australia per un massimo di tre mesi ma se dovete solo viaggiare tre mesi sono sufficienti e questo quindi passiamo subito al schermo per vedere come si compila la richiesta godetevi il tutorial ok andate sul sito del governo australiano che trovate in descrizione cliccate su visita australia e online visitor application si sceglie le visitor perché se volete non pagare questo è quello che dovete prendere e cliccate sull'applicazione vi si aprirà la pagina dedicata cliccate su start an application e poi su login to your in me account nel caso non lo avete dovete creare il vostro account per l'immigrazione australiana è molto semplice basta seguire la procedura inserire i vostri dati noi l'abbiamo già fatto quindi ci basta cliccare login ok questo è il mio account e ovviamente non ci sono altri visti in corso perché abbiamo lasciato scadere il working holiday e clicco su new application qui potete scegliere tutti i visti che volete noi andiamo ovviamente su visitor apriamo la tendina e clicchiamo su e visitor 651 leggete termine condizioni per essere sicuri che potete fare questo visto e poi schiacciate accetto termini e condizioni qui di nuovo vi riassumono quali sono i requisiti per avere questo tipo di visto cliccate next e siete già a un quarto del procedimento fatto praticamente la prima pagina è molto semplice nome cognome data di nascita luogo di nascita di residenza eccetera eccetera le informazioni sul passaporto la cosa che dovete stare attenti qui sono le due parti in grassetto la prima è se avete già avuto un visto australiano dovete mettere il numero noi in questo caso mettiamo il nostro working holiday visa anche se è scaduto il secondo invece è se avete un corrente visto australiano in atto e in questo caso dovete metterlo noi non lo mettiamo perché appunto l'abbiamo fatto scadere in questa parte dovete segnare se avete cittadinanza differente da quella segnata sul passaporto se avete cambiato nome o siete conosciuti anche tramite altri nomi poi le ragioni della vostra visita in australia in questo caso mettete turismo e punto chiuso infine inserite la vostra mail e cliccate next seconda pagina di compilazione semplicemente una conferma dove voi dovete rileggere bene tutto e dire se è tutto giusto cliccate next e in questa pagina dovete inserire il vostro indirizzo di residenza italiano ultima pagina assegnatevi il numerino che c'è in alto perché è il numero della dell'operazione quindi per sicurezza se avete poi questioni insegnatevi questo numero rileggete tutto controllate che le informazioni siano corrette e in fondo alla pagina cliccate submit questo non vuol dire che l'avete spedita perché in quest'altra pagina ve lo richiede di nuovo per sicurezza se siete sicuri di volerlo spedire inviate questa richiesta mi raccomando segnatevi quel numerino trn che c'è scritto in alto una volta che avete cliccato anche qui submit il sistema elaborerà la vostra richiesta voi non cliccate niente ci metterà un pochino diciamo un paio di minuti però non cliccate niente se no la richiesta si annulla succedono casini vi si aprirà questa pagina potete cliccare su go to my account e controllare che effettivamente la richiesta è stata inviata sulla pagina trovate anche che è stata pagata perché non avete dovuto pagare niente ovviamente vi arriverà anche la mail di conferma che la richiesta di visto è stata processata ok questo era il tutorial la conferma del visto ci è arrivata in sei ore sei ore circa sì però comunque voi tenete sempre una settimana come massimo limite per perché vi approvino ci vuole sempre un po' di tempo a volte poco a volte un po' di più se dopo veramente una settimana non vi è arrivata nessuna notifica informatevi da qualcuno sul sito dell'immigrazione trovate i contatti eccetera eccetera comunque speriamo che vi sia stato utile se volete solo per un viaggio in australia questo è il visto che dovete fare e quindi niente ci vediamo al prossimo video grazie aver guardato questo ciao 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 ciao